Benvenuti in questo nuovo tutorial per la fotografia dove proseguiamo il corso con un nuovo tema dove ci troviamo, qui siamo in un mercato, le fotografie che vedrete, i video, il video che vedrete è stato realizzato all'interno di un mercato, un mercato internazionale dove le caratteristiche del luogo sono quelle di un'infinità di soggetti fotografici che possono essere un problema più che una soluzione cioè il rischio nella fotografia è quella di realizzare immagini di confusione quindi su che cosa mi sono concentrato? I problemi sul campo sono quelli di avere un sacco di gente intorno avere un mucchio di cose, tante cose accatastate, confusione, situazioni che fotograficamente possono diventare complicate proprio perché è difficile isolare i soggetti, isolare situazioni che possano poi diventare immagini interessanti quindi è questa la caratteristica del luogo, avere tantissimi spunti e la difficoltà invece è riuscire a realizzare immagini che possano essere efficaci quindi i problemi sul campo sono quelli di doversi confrontare con tutte queste situazioni che cosa possiamo fare? Che cosa ho fatto? Mi sono concentrato sulla inquadratura stretta quindi su, non voglio proprio dire dettagli, ma su quelle situazioni che raccolte in un'immagine concentrate in un'immagine possono diventare efficaci quindi potevano essere tantissimi altri temi potevo concentrarmi sulle persone, potevo concentrarmi su vedute ampie mentre quello che voglio suggerire, quello che vorrei stimolare a fare invece è cercare quelle situazioni quindi creare un racconto di immagini che possa comunque essere efficace sfruttando quelle che sono le tematiche del ordine nel disordine cosa vuol dire? Proprio stringere l'inquadratura su soggetti che poi inquadrati ci permettono di avere fotografie efficaci quali ottiche utilizzare? Sono un po' tutte, diciamo così può andar bene lo zoom standard, il 1850, 1870 quello che permette sia l'inquadratura un po' ampia, un po' grandangolari e un po' più stretta per potersi avvicinare quindi questo ci permetterà di fronteggiare le varie situazioni e adeguarci alla inquadratura che ci serve l'inquadratura pulita è quella che in genere include una situazione che nella inquadratura della fotografia nel quadro della fotografia non fa vedere altro e ripeto, non è il mercato ma avere realizzato, ne ho messo qualcuno non posso mettere tutto perché poi magari diventerebbe anche noioso ma una serie di immagini che poi accostate in sequenza possono anche raccontare in modo diverso, in modo particolare quello che era il contenuto del mio tema lo suggerisco, i mercati sono veramente una fucina di stimoli e di situazioni che possiamo riuscire a sfruttare per buone fotografie gli accorgimenti sono quelli di avere attenzione alla confusione alle gomitate, ai venditori stessi i commercianti se noi cominciamo a inquadrare qualche cosa che loro hanno esposto, stanno vendendo possono magari preoccuparsi pensano che ci sia qualcosa che non va invece di qualche cosa di interessante e dicono un cenno, con un sorriso, con una piccola richiesta in genere acconsentono a quella che è la fotografia dei loro prodotti molto più che fotografare loro stessi e volendo, visto che abbiamo anche la possibilità di vedere subito che cosa è stato fatto possiamo anche far vedere, dimostrare che non è stato rubato niente se non un'immagine che può servire a noi per arricchire il nostro portfoglio per stimolarci a trovare situazioni per avere nuove immagini, diverse immagini diversi nuovi stimoli che tante volte saltano fuori nel chiedersi in che cosa fotografo oggi bisogna guardarsi in giro bisogna stringere il campo proprio visivo bisognerebbe avere, come hanno i fotografi ormai che si abituano ad avere nel cervello questo rettangolo che è quello della macchina fotografica la possibilità di vedere le cose e coglierle altri problemi che si incontrano sono le luci e le ombre ci sono tende, può essere il sole in certi punti zone più luminose, altre più scure quindi attenzione all'esposizione e quindi valutare di volta in volta man mano che ci si sposta l'esposizione può cambiare di molto tra uno scatto e l'altro quindi nel vedere quello che è passato man mano che io spiegavo le cose non posso certo dire vai lì e fai così dobbiamo metterci del nostro dobbiamo prendere lo spunto da quel che vediamo da quello che propongo io da quello che propongono altri avere lo stimolo di vedere cose e di farsi solleticare farsi stimolare a trovare situazioni che magari sono insolite che non avremmo mai considerato più una fotografia la fotografia non è solo paesaggio non è solo tramonto non è solo alba non sono solo gattini e quindi ci si può concentrare anche su altri soggetti e come avete visto possono essere immagini interessanti trovare soluzioni che possano allargare il nostro campo di ripresa e quindi magari uscire e andare a trovarsi situazioni che non siano sempre le solite che non siano magari quelle che poi tendiamo a riprendere sempre allo stesso modo perché abituati a fronteggiare con frequenza vi ricordo tutti i miei contenuti qua intorno tutti i cliccabili ci sono i tutorial per photoshop che sono centinaia ci sono ormai quelli sul corso di fotografia che cominciano a diventare consistenti c'è il bottone iscriviti per naturalmente chi non si è ancora iscritto c'è la nuova pagina facebook se vogliamo relazionarci ancora meglio quindi più immediato l'approccio e c'è l'invito a mettere il vostro mi piace naturalmente se vi è piaciuto il video e un vostro commento se avete qualcosa da dire io nel giro di poco rispondo grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione